Guida sintetica all'immissione degli ordini Dalla Darwin è possibile immettere ordini attraverso quattro tessere dispositive Il modulo ordine, anche chiamato compra-vendi Il flashbook, che può essere singolo o a quattro moduli La flashboard, nella versione estesa o la lista preferiti Il multibook, che può essere una tessera singola o il multibook a 12 moduli Alternativamente, è possibile accedere alla scheda ordine della piattaforma base Accesso alle tessere dispositive A tutte le tessere dispositive, ad eccezione di quelle multiple si può accedere dal menu principale attraverso la voce Apri tessera Il modulo ordine, o compra e vendi e le tessere flashbook e multibook come tutte quelle intestate ad un unico titolo possono essere aperte anche dal menu che compare quando si trascina e si rilascia con il meccanismo del drag and drop un codice titolo in uno spazio vuoto o ancora, dalla voce Apri tessera a fianco del menu di un'altra tessera monointestata già aperta Tutte le tessere dispositive possono poi essere anche prelevate dal cassetto tessere dove compaiono raffigurate in icone trascinabili sulla scrivania con il meccanismo del drag and drop È importante ricordare che nella Darwin gli ordini condizionati possono essere inseriti solo dal flashbook e solo in forma semplice, quella dello stop order e dello stop all mentre per aggiungere a un ordine altre opzioni particolari come ad esempio l'ordine OCO è sempre necessario servirsi della scheda ordine della piattaforma base alla quale si accede direttamente in diversi modi ad esempio trascinando il codice titolo su una zona libera della scrivania e selezionando la voce Scheda ordine Ancora attraverso la casella Opzioni apribile dalla tessera Compravendi Attraverso la casella Opzioni del modulo Ordine che compare sotto il buco orizzontale quando si clicca sul prezzo scelto per l'operazione E infine con un doppio clic sulla descrizione dei titoli delle tessere monointestate Grazie 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 Grazie